La famiglia pugliese spende in media ogni mese 412 euro per i consumi alimentari. Il capitolo di spesa più consistente riguarda la carne, ortaggi e frutta, pane e farinacei, latte, formaggi e uova. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, la palma del risparmio spetta a Bari, dove l'abbassamento dei prezzi dell'1% consente ad una famiglia di 4 persone di risparmiare 353 euro su base annua in termini di riduzione del costo della vita. In questo scenario, la forbice dei prezzi dal campo alla tavola, denuncia Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia, si allarga sempre più per effetto congiunto dell'andamento climatico anomalo e troppo spesso di speculazioni e distorsioni lungo la filiera. Rispetto agli ortaggi annulla e valsa la programmazione degli orticoltori, che in Puglia stanno raccogliendo ortaggi maturati contemporaneamente per il caldo anomalo degli ultimi mesi. Ciò sta determinando una saturazione e conseguente stagnazione del mercato già fermo, per una domanda che non c'è perché più fa caldo meno i consumatori acquistano ortaggi di stagioni. La situazione dei prezzi in campagna, continua la Coldiretti, sta assumendo toni drammatici anche per il grano e gli allevamenti, in maniera particolare per il prezzo del latte alla stalla. Sono enormi e non più accettabili le distorsioni esistenti nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola e nei processi della trasformazione, come ad esempio dal grano alla pasta e al pane e dal latte ai prodotti lattiero casearei, in calza Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, durante il quale i prezzi si moltiplicano in modo esponenziale e i centesimi si trasformano in euro. Per ogni euro speso nell'acquisto di prodotti alimentari, solo 15-17 centesimi, nella migliore delle ipotesi a concluso Corsetti, servono a remunerare il prodotto agricolo.